Ha parlato ai leader africani riuniti a Johannesburg per il Summit dell'Unione Africana con chiarezza e determinazione Angelina Jolie invitata all'incontro nella veste ufficiale di inviata speciale delle Nazioni Unite. La violenza contro le donne e le ragazze nelle zone di conflitto come in quelle di pace, ha detto l'attrice, sta diventando un'arma di guerra. La quasi totale impunità che esiste in tutto il mondo per i crimini contro le donne trasforma questa violenza nell'arma preferita per alcuni. Le donne e le ragazze stanno supportando il peso di estremisti che si divertono nel trattarle barbaramente, ha concluso. L'attrice ha rivolto poi un appello ai leader riuniti affinché facciano diventare la lotta alla violenza contro le donne una priorità della loro agenda.